Aveva rapinato una 95enne in strada nel centro storico Eretino. L'aveva gettata violentemente a terra e la signora era finita in ospedale con la frattura del femore e una prognosi di ben 90 giorni. Adesso un 37enne italiano è stato arrestato come presunto responsabile dell'episodio. Per lui, accusato di lesioni personali e rapina impropria, la misura della custodia cautelare in carcere. I fatti erano avvenuti la scorsa settimana in pieno centro in via Cesalpino. La donna, di 95 anni, era finita nel mirino del malvivente che le aveva strappato la borsetta e poi per fuggire l'aveva spintonata facendola cadere rovinosamente a terra. Sul posto erano immediatamente intervenuti le volanti della polizia. Grazie alla descrizione dell'uomo e i filmati della videosorveglianza della zona, i uomini della squadra mobile della questura Eretina sono così riusciti ad individuare il 37enne che è stato poi rintracciato in via Vittorio Veneto assieme ad altri soggetti, tutti identificati. La polizia ha eseguito l'ordinanza del GIP e ha portato il 37enne nel carcere Eretino di San Benedetto.